benvenuti a questo webinar l'ultimo webinar di agosto benvenuto natalino giana siamo pochi ma buoni questa sera bene bene ben trovati sono contento che che siete siete collegati siamo agli sgoccioli di questo di questo agosto pieno di vacanza pieno di persone che sono state all'ecotecnopark il 17 agosto l'eco festival questa sera parleremo proprio del dell'eco festival e soprattutto questa presentazione sarà incentrata su quello che un inschi ha detto siccome c'è il video della conferenza in russo in inglese in francese in tedesco ci sono tutte le lingue del mondo tranne l'italiano allora mi sono messo lì a tradurre un pochino per capire bene che cosa ha detto un inschi nella nella conferenza che ha appunto presentato all'eco festival il 17 agosto bene a natoli un inschi non non ha bisogno di presentazioni semplicemente per chi per chi non lo conosce per chi vedrà questo webinar in futuro gli un inschi è l'autore progettista generale delle tecnologie di stringa è il capo dei due progetti delle nazioni unite tra l'altro le nazioni unite hanno diciamo confermato che skyway è una delle società candidate a progettare a valutare progetti di sostenibilità nelle nelle smart city cioè nelle città del del futuro quelle che devono essere diciamo così adattate o progettate a nuovo per una compatibilità ambientale per una compatibilità legata a un trasporto gestito automatizzato dove non ci sono più problemi di sicurezza e e quant'altro è l'autore di oltre 150 invenzioni e membro della federazione cosmonautica dell'urse e potete andare a vedere nella sua pagina personale tutta la sua storia la sua storia una storia vincente di uno di una personaggio che rimarrà nella nella storia presente ma anche futura e si studierà si valuterà tutto quello che ha portato i unischi perché il progetto di oggi non è ancora nulla nei confronti di quello che verrà sviluppato nel mondo bene i unischi fondamentalmente cosa ha detto alla conferenza che senza un centro di innovazione non saremo in grado di entrare nei mercati il centro di innovazione del presentato e sviluppato a minsk è indispensabile per tutta una serie di ragioni che noi andremo ad esaminare scusate ma ecco skyway è conosciuta in tutto il mondo attraverso punti brevetti che sono stati presentati nei vari paesi attraverso le fiere più importanti a livello internazionale sui trasporti e attraverso delegazioni che proprio partecipando al alle visite dell'ecotecnopark hanno si sono resi diciamo consapevoli sono resi hanno verificato che ci sono tutti i presupposti per una tecnologia di successo quindi successo dello sviluppo della tecnologia dipende da un forte team internazionale pensate che ci sono più di mille professionisti specialisti in skyway per la progettazione quindi è tempo di cambiamenti globali nel settore dei trasporti skyway è più sicuro più veloce più economico di qualsiasi altro trasporto oggi esistente e risolve problemi legati all'ambiente alla sicurezza alla riduzione dei costi all'utilizzo di energie rinnovabili quindi risolve in modo efficace e anche flessibile i problemi qualsiasi problema di trasporto e di infrastruttura qui vedete un'immagine dell'ecotecnopark prima del 17 agosto quando c'è stato il quarto eco festival juninski prima sempre dell'eco festival ha ribadito che la terra è morta non respira non produce ossigeno di cui abbiamo bisogno per respirare oggi giorno più che mai con gli eventi delle diciamo degli incendi che ci sono nel polmone più importante del mondo dell'amazzonia gli incendi che ci sono in siberia e sono a dimostranza del fatto che la terra sta andando a rotoli per così dire quindi fondamentalmente l'invenzione tecnologica più pericolosa per l'ambiente dell'uomo è il trasporto quindi juninski ha ideato una soluzione vincente che ci porterà a grandi trasformazioni nel breve medio e lungo periodo perché questo è fondamentale perché linee skyway sono sopra levate da terra quindi al di sotto di queste linee si possono crescere piante possono girare persone animali l'erba verde camminano tutti gli esseri viventi indistintamente dal fatto che sopra di loro ci sia una linea di skyway o meno e questo eco festival è importante per mettere in luce le nuove le nuove costruzioni gli nuovi sviluppi e è stato dimostrato in questo eco festival che è possibile generare delle città intelligenti attraverso il sistema skyway con veicoli che si possono muovere in modalità senza incidenti e quindi cosa succede succede che juninski ha dichiarato nella conferenza che il trasporto più sicuro al mondo più ecologico più efficiente è skyway e dovrebbe essere sviluppato in tutto il mondo bene l'eco festival quest'anno era incentrato sull'aspetto legato al divertimento perché il divertimento perché in un contesto di tecnologia di sviluppo di trasporti può essere immersa nella natura immersa attraverso un contesto ambientale naturale dove anche il parco divertimenti per i bambini è integrato in questo contesto quindi ci sono stati possibilità per i bambini di divertirsi attraverso dei giochi che sono stati disposti nell'ecotecnopark quindi la soluzione green dei trasporti skyway fa proprio notare fa vedere che la tecnologia è in un contesto ambientale è pressoché intatto non ci sono strade asfaltate cemento armato ma c'è una natura una natura la terra naturale con terreni coltivati dove ci sono gli animali che non sono affatto disturbati dal veicolo dal trasporto di skyway poi motori elettrici che utilizzano energia rinnovabile quindi non c'è neanche inquinamento quindi non c'è un impatto ambientale e neanche di inquinamento ecco chi solleva il fatto che ci può essere un impatto visivo è alquanto poco giustificato dal semplice motivo che se noi andiamo facciamo un viaggio in autostrada l'impatto dei ponti alti anche 100 metri quelli soprattutto di collegamento nella parte di liguria verso versiglia ci sono dei ponti altissimi quello è un enorme impatto ma il nostro cervello è abituato a vederli quindi non lo considero più tale quindi in cinque anni quest'anno è il quinto anno dell'anniversario della diciamo del progetto di sviluppo vero e proprio che è partito nel 2014 quando è stato diciamo piantato il primo palo nell'ecotecnopark e in questi cinque anni di innovazione e sviluppo questa è la ruota diciamo dei mezzi di trasporto di skyway skyway ha una grande proprietà quella della flessibilità e quindi diciamo che eh cinque anni di grande sviluppo bene a questo punto vi leggo ve lo leggo per andare un po' più veloce un pochino quali sono quello che ha ribadito Iuninsky alla conferenza ve lo leggo proprio eh vi dico testuali parole tradotte in italiano dal della conferenza di Iuninsky quindi in persona di Anatole Iuninsky eh Iuninsky dice sono molto nervoso quando parlo davanti a voi non perché ho paura di parlare ma perché capisco la profondità della responsabilità per la fiducia che centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo mi hanno dato investendo nella tecnologia skyway ecco perché sono sempre nervoso quindi il suo nervosismo è eh tradotto da una grande responsabilità nei confronti di centinaia di persone che hanno dato fiducia sono lieto di darvi il benvenuto al quarto eco festival qui a Marina Gorka allo skyway ecco tecnopark questa piccola città bielorussa è diventata famosa in tutto il mondo grazie a noi e a tutti voi in almeno due dozzine di paesi in cui sono presenti i nostri investitori e probabilmente molti di questi paesi non sapevano nemmeno che esistesse un paese come la Bielorussia molte persone all'estero la percepiscono come parte della Russia e non al centro dell'Europa ma da qualche parte in Siberia oltre agli Urali ecco questa è l'introduzione di Iuninsky le soluzioni in cui si basa skyway che dimostriamo qui in Bielorussia e che riteniamo fondamentali per un contesto di sviluppo eh sono all'innovation center for string technology quindi nel centro di innovazione delle tecnologie a stringa nel centro dell'Europa hanno un potenziale di trasformazione globale siamo almeno dieci anni avanti rispetto al resto del mondo e molti paesi stanno già venendo da noi per studiare e abbiamo avuto una recente visita dal Giappone per l'ispirazione del nostra tecnologia quindi considerate che Iuninsky dice siamo avanti dieci anni e cominciano a venirci e cominciano a venire delle delegazioni a ispirarsi con le soluzioni di skyway abbiamo creato ehm abbiamo creato una solida base materiale e di beni immateriali quindi eh diciamo cose concrete e cose eh diciamo di software di sviluppo anche se siamo una ancora una start up eh perché non siamo ancora entrati nel mercato mondiale e con progetti commerciali ehm abbiamo realizzato questo ecotecnoparche per il semplice motivo che è impossibile progettare e costruire complessi skyway innovativi senza una dimostrazione qualsiasi cliente indipendentemente dal paese desidera vedere tre componenti importanti uno la prima cosa fondamentale è la tecnologia correttamente funzionante e certificata quindi l'ecotecnoparche è fondamentalmente ehm stato costruito affinché i clienti abbiano una dimostranza della tecnologia funzionante e certificata il secondo motivo importante è la commerciabilità delle soluzioni proposte quindi le soluzioni proposte devono essere eh richieste devono risolvere problemi devono essere commerciabili il terzo ma non eh non meno importante è il team e le risorse sia materiali che immateriali necessarie per progettare e sviluppare progetti mirati nei vari paesi bene considerate molto attentamente questa parte perché questa parte ehm è fondamentale per tutti noi e sostanzialmente Iuninsky in questo momento dice abbiamo tutti questi abbiamo già tutto questo quindi questi tre punti fondamentali per il cliente ci sono stiamo muovendo con determinazione verso gli obiettivi più ambiziosi la Skyway Technology ovvero tutti i nostri investitori attualmente dispongono di questo quindi noi tutti che partecipiamo al progetto Skyway abbiamo siamo in possesso tutti eh partecipiamo a cosa abbiamo come investitori disponiamo di queste di questo elenco di cose abbiamo degli immobili per oltre 16,6 milioni di dollari 36 edifici e infrastrutture oltre 3.000 unità di macchinari e attrezzature compresi computer laptop monitor quindi 3.000 unità di macchinari e attrezzature 32 automobili e decine di migliaia di unità di attrezzature strumenti e altre proprietà le attività immateriali per un valore di 2 mila no scusate 2 milioni e 700 mila dollari che includono software professionali inclusi diritti di sicurezza professionale il software 3d experience e i diritti di utilizzo del territorio la cosa e la cosa più importante a mio avviso dice Iuninsky è un fondo charter registrato di 56 milioni di dollari nel 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 in America negli USA costituito in contanti e registrato lo ripeto la cosa più importante a mio avviso dice Iuninsky è un fondo charter registrato di 56 milioni di dollari USA costituito in contanti e registrato quindi in America c'è questo fondo charter questo è quasi lo stesso di quello di un gigante industriale bielorusso come l'impianto di trattori gommati di Minsk dice è un famoso impianto che produce veicoli con missili ok quindi questo è un pochino il in sintesi quello che vuol paragonare skyway a un gigante industriale belorusso tuttavia solo a Minsk ci sono diverse società oltre skyway technology di proprietà della global transport investment la gti ovvero tutti gli investitori nella tecnologia skyway quindi dobbiamo renderci consapevoli che i nostri soldi sono capitalizzati è stata sviluppata tecnologia e chiaramente abbiamo abbiamo tutta una serie di sviluppi che la skyway sta portando avanti siamo proprietari di immobili uffici e impianti di produzione con una superficie totale di oltre 10 mila metri quadrati in meno di quattro anni perché diciamo che è partito nel 2014 ma tutto nel 2014 è stato molto molto rilento sin dall'inizio della progettazione del primo e del primo pallo di di circa 36 ettari che è proprio la superficie del 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 terreno dedicato dalla bielorussia a skyway ci sono cinque dimostrazioni e certificazioni di test skyway complessi di diversi tipi con una lunghezza totale di oltre 4 chilometri che hanno hanno dato hanno dato origine costruito da zero per la prima volta al mondo soluzioni innovative di skyway aggiorniamo costantemente la tecnologia per la quale di fatto ecotecnopark è stato creato nella logica dei 100 anni quindi la logica di sviluppo dell'ecotecnopark è si basa per un secolo pensate che sviluppo ci sarà in questo contesto la struttura della carreggiata semi rigida è già stata modernizzata per aumentare la capacità di carico di tre volte sappiate per chi è andato la prima volta l'ecotecnopark dove le prima linea che c'era era per i diciamo per chi c'è andato a loro parere era rudimentale saldature non 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 tanto cioè rifinite linee ondeggianti questo è stato ovviamente una ragione una scelta da parte di juninski di non sprecare soldi juninski ha con le risorse utilizzate creato e sviluppato molto di più rispetto a quello che erano i budget iniziali poi prima all'inizio correva un unibike ma ora c'è un unibus che pesa circa quattro tonnellate quindi c'è uno sviluppo sul cavalcavia la pista sotto la testa della rotaia a cinghia è stata modernizzata e questo aumentato di 10 volte l'uniformità della pista e così via insomma diciamo che nei dettagli tecnici non ci addentriamo troppo però sono state costruite tutte le infrastrutture necessarie del secondo livello stazioni interruttori di affluenza rete di ingegneria chilometriche di approvvigionamento idrico e fognario sistemi di alimentazione corretti con una capacità totale di circa mille kilowatt sistemi di comunicazione controllo intelligente dotati di sensori di sistema e visione tecnica infine è stato costruito il sesto complesso di prova di quasi un chilometro di lunghezza e alla è a destra del del parco ed è in fase di completamento al fine di elaborare standard per le condizioni climatiche degli emirati arabi uniti compresi quelli per il rodaggio del materiale rotabile in versione tropicale fabbricato a minsk prima della sua consegna a dubai abu dhabi sharia e altre città e regioni del medio oriente e in asia quindi diciamo che nella conferenza juninski ha descritto un pochino che cosa hanno gli investitori che cosa è stato sviluppato e fino ad arrivare già uno sviluppo di 11 modelli fondamentalmente diversi di innovativi veicoli elettrici ferroviari che sono stati fabbricati nello stabilimento di produzione creati da zero e dotati delle più moderne attrezzature per macchine pensate che l'unibus tropicale degli emirati arabi è stato ridisegnato nei primi mesi di quest'anno ridisegnato riprogettato con due sistemi di climatizzazione con un sistema di diciamo una linea più aerodinamica quindi è stato riprogettato per gli arabi e sapete che gli arabi vogliono il top del è basato su uno dei modelli passeggeri unicari e sono state apportate appunto delle modifiche per generare il lo skypod e un articolato con tre sezioni oltre a produrre una nuovissima modifica tropicale con una cabina quattro posti in design vip quindi per veri importanti polce le persone importanti per come si suol dire tutti siamo importanti quindi l'ecotecnopark 2019 ha dimostrato e certificato la tecnologia skyway con sei tipi di linee ecco qui ci sono alcune immagini che riportano skyway all'ecotecnopark il 17 agosto sky beach perché chiaramente lo sky beach è un parco divertimenti per i bambini e c'era anche presente l'unibus l'unibus affiancato alla tesla di uniski l'unibus affiancato alla tesla di uniski per fare cosa per dimostrare che entrambi i mezzi sono entrambi mezzi elettrici ma hanno una sostanziale differenza che la tesla è un mezzo elettrico non inquinante perché ovviamente usa l'elettricità ma ha bisogno dell'uomo per essere guidato l'unibus è invece sempre elettrico ma può essere un mezzo mosso pilotato e auto gestito automaticamente attraverso sensori attraverso attraverso sistemi di frenata tutto quello che serve senza l'utilizzo del della persona fisica direttamente sul veicolo che conduce al veicolo stesso quindi ciascuno di questi mezzi è un veicolo di immensa complessità non inferiore all'aeromobile nella sua complessità e significatamente superiore alla tesla elettrica nella sua innovazione quindi l'unibus di per sé sembra più semplice in realtà è molto più complicato di un'auto elettrica come la tesla l'unimobile per i disabili è anche un'auto elettrica solo per l'asfalto ma esiste anche un vagone ferroviario perché creiamo il trasporto nella logica dell'auto non nella logica del treno ok quindi l'unità diciamo l'auto elettrica per i disabili o diversamente abili meglio dire è stata pensata non solo per la terra ma anche per un vagone ferroviario abbiamo progettato il nostro veicolo una variante dell'automobile solo su ruote in acciaio abbiamo progettato e prodotto un altro veicolo efficiente al buio si trova lì dietro l'unicar dovete averlo visto ecco di qua diciamo è un dettaglio di un componente di un veicolo efficiente sempre nell'ecotecno par abbiamo già un ordine per questo prodotto il prossimo anno la prima rotta commerciale verrà messa in funzione in modalità test quindi questa è la notizia importantissima abbiamo già un ordine per questo prodotto e il prossimo anno la prima rotta commerciale verrà messa in funzione in modalità test quindi la prima rotta commerciale sarà pronta il prossimo anno c'è un detto un calzolaio è sempre malato non so adesso quello che si intende dire qua comunque sia a questo ha lanciato questa affermazione questo tutto questo non vale per me l'autore il progettista generale di skyway quindi il primo ordine su una rotta commerciale è arrivato skyway technology dalla fattoria di uninski cosa vuol dire che attraverso l'ecotecno park la dimostrazione delle linee abbiamo il primo ordine su una rotta commerciale quindi il primo ordine è stato eseguito è in fase di sviluppo e il prossimo anno andrà in modalità test come agricoltore pago per la progettazione della pista pago per la produzione a un ordine commerciale quindi è previsto un percorso ultraleggero con unilight a sei posti dopo la loro certificazione per la consegna di prodotti agricoli e quindi dopo i test pilota per guidare pescatori e campeggiatori sul lago Nadezda che dista un chilometro dall'ingresso alla fattoria la pista passerà sopra il laghetto e la foresta quindi c'è un progetto come test pilota anche qui in Bielorussia 5 modelli di veicoli con i loro nomi che iniziano con uni sono già certificati chiaramente sappiamo l'unicar, l'unibus, l'unibike e ci sono gli altri unibus a tre vagoni eccetera eccetera l'unibus ad alta velocità altri 4 nuovi modelli dei nostri veicoli ferroviari elettrici sono in fase di sviluppo attivo la loro novità è fondamentale e non risiede tanto nell'aspetto costruttivo ma nell'ideologia, nelle metodologie e nella profondità degli approcci integrati implementati vedete comunque il contesto ambientale la tecnologia immersa nella natura questo è un discorso veramente di alto studio, alta professionalità che UNISC ha messo in atto per portare a compimento un matrimonio, io lo chiamo matrimonio tra la tecnologia e l'ambiente quindi l'ecotecnopark è un contesto veramente importante l'industria 4.0 e la digitalizzazione della produzione per Skyway è il presente che ci consente di ottenere risultato già nelle prime fasi di sviluppo e di fornire supporto tecnico e modernizzazione dei prodotti durante l'intero ciclo di vita abbiamo creato un drone cargo con una capacità di 1,5 tonnellate sulla base di un elicottero seriale russo KA26 sta già volando da solo, il drone è un elicottero che vola da solo su un incarico di rotta senza pilota ed è un vero drone, è un robot molte persone credono che il drone sia un giocattolo radiocontrollato del mondo dei bambini con molte eliche e quelli che capiscono compresi i militari sono scioccati come hai fatto in così poco tempo a un prezzo così basso non siamo riusciti a farlo nemmeno noi in dieci anni queste cose qua sono molto significative cioè il fatto che le persone sono stupite dal fatto appunto da quello che Uninsky è riuscita a fare in poco tempo siamo, siamo, è il mercato un attimo, non è che ho perso il filo allora questo è un vero drone, questo è un robot ripeto, molte persone credono che il drone sia un giocattolo e quelli che capiscono compresi i militari sono scioccati da questo perché? perché sono stupiti dal fatto come hai fatto Uninsky in così poco tempo a un prezzo così basso non siamo riusciti a farlo nemmeno noi in dieci anni di recente abbiamo acquisito un piccolo aeroporto per migliorare ulteriormente e poi vendere questi aerei unici al mondo anche questo è un grande mercato c'è una grande richiesta di questi droni giganti io li chiamo droni giganti senza un aeroporto non avevamo nessun posto dove testare e certificare i droni è necessario lo spazio e quindi Skyway ha appunto acquisito un piccolo aeroporto per fare le certificazioni e testare questi droni senza i test la certificazione e le ore di volo non si possono senza queste cose non possiamo venderlo e il mercato è molto grande per noi siamo riusciti a fare una cosa incredibile creare non solo il cervello del drone insegnarlo, creare i sensi compresa la visione tecnica ma anche equipaggiare un elicottero grande e potente con 12 unità esecutive pensate 12 unità esecutive queste 12 unità esecutive hanno sostituito le braccia e le gambe del pilota nel controllo dell'elicottero pensate a che automatizzazione e robotizzazione c'è dietro a tutto questo noi non ci immaginiamo neanche una minima parte di tutto questo sviluppo abbiamo progettato e organizzato la produzione di un'intera linea di ruote motrici elettriche di nostra progettazione da diversi kilowatt a una potenza fino a 100 kilowatt abbiamo creato un'auto elettrica sociale unica per gli utenti su sedia a rotelle in cui un guidatore può entrare in una sedia a rotelle elettrica sviluppata da noi e controllare l'auto seduta al suo interno ma poiché i veicoli elettrici per asfalto non sono il nostro profilo diventerà presto un business indipendente abbiamo intenzione di vendere lo sviluppo con un profitto per noi quindi anche questo altro settore auto elettriche non è il profilo di skyway l'auto elettrica su strada ma diventerà un business indipendente perché ovviamente anche questo è un business per tante aziende ciò significa che tutti i fondi in cui abbiamo investito ci ritornano con interesse anche questi sono affari dice Iuninsky un fattore competitivo chiave per un'azienda di ingegneria di livello mondiale è la disponibilità di ingegneri e lavoratori preparati e formati sulle superfici di skyway oggi oggi 2019 27 agosto 2019 abbiamo in qualche modo superato le mille unità mille dipendenti pensate che nei prossimi cinque anni Iuninsky disse non in questa conferenza ma disse tempo fa che le persone che lavoreranno in skyway saranno 10.000 e proprio dice tra un po' di anni di anni dopo lo scandalo in Lituania no dopo e tre e dopo tre anni fa quando c'è stato lo scandalo in Lituania stavo qui da solo sul campo e gridavo al cielo oh mio dio cosa devo fare questi sono ingegneri costruttori progettisti ingegneri di progetto tecnologi logisti costruttori economisti e dozzine di altre specialità per la progettazione costruzione e gestione di nuovi complessi di trasporto infrastruttura di merci e passeggeri città e tipi di intercity ad alta velocità compresi cavalcavia il materiale rotabile e le infrastrutture fondamentalmente nuove di secondo livello la struttura organizzativa di skyway technology ha già oltre 80 dipartimenti e uffici di progettazione a volte ci viene chiesto hai un ufficio di progettazione sì ne abbiamo 80 80 uffici di progettazione ciò include uno speciale ufficio di progettazione ingegneria con un impianto di produzione pilota dove produciamo tutto questo per fare un confronto ci vogliono decenni perché i leader del settore globale formino tale team di professionisti pensate che valore ha skyway in questo istante leggendo questa conferenza cerco anche di capire che a volte dobbiamo riflettere su quello che è la nostra partecipazione in questo progetto e mi viene voglia di sostenerlo ancora di più prendere ancora delle altre quote nonostante ne ho abbastanza per fare un confronto ci vogliono decenni perché i leader del settore globale formino tale team di professionisti se prendi il globo e ruotandolo colpisci il dito in qualsiasi punto a caso e quindi valuti il grado di sviluppo delle comunicazioni di trasporto lì vedrai nel 99 per cento dei casi che skyway è necessario anche questa è una bella riflessione pertanto per proteggere la nostra attività inclusa quella dei concorrenti globali proteggiamo attivamente la nostra proprietà intellettuale e brevettiamo i nostri sviluppi scientifici e tecnologici in dozzine di paesi più di 60 brevetti sono già stati ricevuti maggiore è la distribuzione di questi brevetti e maggiore è la diciamo la protezione della nostra attività inclusa quella dei concorrenti globali per progetti industriali marche e invenzioni in bielorussia russia australia cina giappone canada india emirati arabi uniti in 23 paesi della comunità europea in numerosi altri stati la registrazione di oggetti di proprietà intellettuali in diversi stati consente non solo di entrare legalmente nei mercati rilevanti con i nostri prodotti ma anche di garantirne la protezione dall'uso non autorizzato e dalla concorrenza sleale maggiore è il radicamento di skyway con dei brevetti sui vari paesi e maggiore è la solidità e la stabilità e la protezione della tecnologia stessa di skyway nei confronti dei competitor e abbiamo abbastanza concorrenti ingiusti non c'è bisogno di esserne felici ma non c'è bisogno di avere paura ci stimolano soprattutto io mi sto incoraggiando a fare ancora più velocemente e di più grazie ai competitor e grazie a loro bene sono è questa è in breve la lista delle attività materiali materiali a disposizione degli investitori e del gruppo di società skyway che rappresentano la parte più importante dalle dell'arsenale con cui stiamo lottando per il mercato mondiale nel settore più corrotto, l'industria dei trasporti. Questa è la lotta contro di noi, diventerà solo più dura in futuro, non ci saranno mai concessioni qui in nessune circostanze, non dovremmo avere illusioni a riguardo, a volte sento perché non vendi questi Unibus, dopo tutto 5 tipi sono già certificati, in effetti non possiamo vendere Unibus, nessuno ha bisogno di loro da solo, era più facile per Henry Ford produrre solo automobili e non si occupava di asfalto, ponti, interscambi, stazioni di servizio etc., e chi era il suo rivale? Il carro o diligenza carrozza trainata da un cavallo lungo una strada sterrata. Un simile concorrente potrebbe essere facilmente superato in senso letterale e figurato, stiamo creando un nuovo settore, non solo come scienza ma come prodotto di mercato. La scienza è facile da fare, scrivere un articolo è basta, diventare un candidato, un dottore in scienza, un non accademico, e non importa se qualcuno ne ha bisogno o no. E dobbiamo vendere ciò che creiamo, un prodotto molto complesso, persino super complesso, che supera più volte gli analoghi del mondo non in percentuale, che comprende veicoli elettrici ferroviari fondamentalmente nuovi, un cavalcavia ferroviario precompresso, infrastrutture del secondo livello, stazioni, terminal, passeggeri, merci, influenza, officine di reparazione, fornitura di energia, comunicazione, sistema di controllo intelligente e molto altro. Sono già stanco di elencarlo e tutto deve essere progettato e fatto. Quindi non si tratta, aggiungo io, di vendere un prodotto, ma vendere un sistema, un sistema complesso che è tutto questo. Iunischi dice poi, se non creiamo nulla di quanto sopra, o lo facciamo e lo mostriamo parzialmente o non raggiunge gli alti requisiti del livello mondiale, inoltre lo superiamo, nessuno acquisterà i nostri prodotti. Pensa alla complessità di ciò che stiamo facendo. I nostri concorrenti non sono solo alcuni modelli di auto, ad esempio l'auto elettrica Tesla, ma l'industria automobilistica globale nel suo insieme, con l'intera infrastruttura di trasporto che ha una storia secolare, non solo una specie di tram, ma l'intera industria ferroviaria mondiale, sempre con tutti i suoi trasporti e le relative infrastrutture. È importante ricordare che i moderni settori di trasporto hanno elaborato requisiti sofisticati e molto elevati per il comfort, l'affidabilità, la sicurezza e l'efficienza dei servizi di trasporto e trasporto attraverso gli sforzi di milioni di ingegneri da oltre 100 anni. Sono molto diversi da requisiti simili ai tempi di Henry Ford e dei fratelli Wright, pertanto è stato molto più facile per loro creare le industrie automobilistiche e aeronautiche ed entrare nel mondo mondiale con solo una piccola parte di questa industria, vale a dire con veicoli che sono abbastanza primitivi nella visione di oggi. I nostri Unibus vengono inoltre confrontati con gli iPhone che vendono come hotcakes, mentre gli Unibus in qualche modo non lo sono. Tuttavia è facile vendere un iPhone non solo perché è buono di per sé, ma anche perché il suo prezzo è di un migliaio di dollari e chiunque può acquistarlo, senza offerte e valutazioni internazionali. Non dovremmo dimenticare che l'iPhone è apparso come prodotto commerciabile 31 anni dopo la creazione della società Apple, mentre la società Skyway Technology è stata fondata solo 4 anni fa. Quindi meditate gente su queste osservazioni di Uninsky. Inoltre non dobbiamo vendere un prodotto del peso di 100 grammi, ma progetti mirati il cui valore di mercato, anche dei più economici, parte da 100 milioni di dollari. Con produzione, fornitura e installazione di complesse strutture metalliche innovative che pesano in totale migliaia di tonnellate. Inoltre, al fine di attuare un tale progetto che non è tanto un veicolo, ma una struttura di trasporto e infrastrutture necessario eseguire un complesso di lavori che possono durare per anni. In primo luogo, il complesso Skyway deve passare una certificazione mirata, ad esempio quella urbana, ma non è richiesta solo la sua parte meno importante. L'Unibus o, nella migliore dell'ipotesi, un adattamento mirato della tecnologia ai requisiti climatici e di altra natura del paese di costruzione. In secondo luogo, è necessario superare un'offerta mirata in cui devono essere presentate altre offerte competitive di altre società. In terzo luogo, è necessario approvare numerosi accordi con le autorità e ricevere un parere di esperti mirati, di solito da parte di concorrenti, professionisti dei trasporti. Il nostro partner di E.E. Katerinburg venne da me, incontrò il sindaco. Il sindaco ha dichiarato, interessante, ma in Russia non esiste ancora nulla del genere. Quando sarà qui, allora pensiamo. Il nostro partner gli dice, hanno già iniziato a costruire Dubai, quindi il sindaco dice, cosa devo fare con Dubai? Dubai non è l'autorità, devo averlo in Russia, quindi inizieremo a costruire. Inoltre, la maggior parte dei potenziali acquerenti semplicemente non ha fondi per un acquisto così costoso e si stanno offrendo di costruire loro un oggetto a nostra spese. Non è qualcosa che vogliamo fare. Allo stesso tempo, nessuno ha annullato la concorrenza sleale nel processo di ricezione di un ordine. Mi chiedo se Henry Ford sarebbe riuscito a vendere molte auto e in generale a creare una nuova industria se i giornali più letti negli Stati Uniti, New York Times e Washington Post, scrivessero da anni che era una frode e un imbroglione, che era il creatore di una piramide finanziaria sul punto di crollare, che era una spia russa ai nipoti di spia polacche, che non c'erano innovazioni nella sua auto. E ogni acquirente di un'auto Ford avrebbe ricevuto centinaia di lettere minacciose e offensive che chiedevano di rifiutare l'acquisto. Inoltre, persuadendo i bravi specialisti a non andare a lavorare nella compagnia Ford con il pretesto imposto dalla stampa senza scrupoli, la sua compagnia sarà presto chiusa e verrà emesso in prigione. A titolo di questo che dice nella conferenza Juninski, dico proprio, purtroppo ahimè, perché io sono italiano, che in questi mesi, in questi periodi ci sono state delle testate giornalistiche italiane con degli articoli ridicoli, veramente ridicoli, di un paese che a dimostranza di tutto ciò, senza considerare la politica, è proprio lo specchio di quello che succede nel nostro paese, a differenza delle testate giornalistiche invece in tutti i paesi e del resto del mondo. Chiudo parentesi. Perché sto dicendo questo? Dice Juninski. In ogni caso, per non lamentarci, quanto è difficile e difficile per noi lavorare? No, lo dico in modo che i nostri investitori capiscono le realtà in cui lavoriamo e non abbiamo la testa tra le nuvole disegnate dai fondi di investimento, attirando investimenti nel sistema di crowd investing di Skyway. Qui vale la pena notare, sebbene questi fondi di investimento abbiano la parola Skyway nei nomi, non fanno parte del gruppo di società Skyway e dei nostri dipendenti non ho nulla a che fare con la loro creazione e le loro attività. Questi fondi non sono affiliati a me e vengono creati come un'attività separata con un unico scopo, la vendita del nostro prodotto specifico, le quote nelle partecipazioni del gruppo di società Skyway, questi sono puramente venditori e non ci sono specialisti professionisti sulla nostra innovativa tecnologia delle corde. Naturalmente qualsiasi venditore in qualsiasi mercato vuole fare soldi e invitando gli acquirenti conduce la propria politica di marketing che è interamente sulla sua coscienza. L'unico modo in cui possiamo influenzare il lavoro di questi fondi è di dare o meno le nostre azioni in vendita. Certo è possibile non dare mai, non dare, ma poi non ci sarà alcun investimento nel sviluppo della nostra tecnologia. Anche se i media smetteranno di parlare male di noi e presto dimenticheranno di noi perché scompariremo dal mercato. Il nostro posto sarà assunto dai cinesi, poiché il loro saggio governo finanza generosamente innovazioni e tecnologie innovative. Mi vengono anche poste molte domande sui pagamenti di rinvio in fondi di investimento. Non ho nulla a che fare con questi pagamenti, ma posso rispondere a questa domanda con un'altra. Quanti fondi spendono i leader mondiali per la pubblicità? Sono sicuro anche più dei fondi di investimento spendono in pagamenti di rinvio per lo stesso scopo. Dozzine di migliaia dei nostri investitori, come si suol dire, lavorano sul campo e trascorrono il loro tempo, i loro sforzi e i loro soldi per la promozione di Skyway e non vedo nulla di male nel fatto che il loro lavoro riceva una ricompensa decente. Bene, spendiamo il resto dell'investimento che viene da noi per un vero lavoro e si vede e questi investimenti ci arrivano onestamente. Sebbene ci siano molti ostacoli, incluso il sistema bancario esistente, che sta diventando obsoleto. Questo sistema sta per affondare e guardati intorno e sarà in grado di vedere di persona. Gli investimenti destinati alla creazione e allo sviluppo della tecnologia Skyway sono effettivamente investiti nella tecnologia Skyway e non solo in Bielorussia, ma anche in altri paesi, principalmente negli Emirati Arabi Uniti. Quindi i nostri fondi vanno anche negli Emirati Arabi. Pertanto proprio da queste posizioni non dovremmo lamentarci del lavoro dei fondi di investimento Skyway. Non mi lamento del loro lavoro, sto semplicemente affermando in modo che tutti capiscono la realtà. Si può anche notare che in diversi paesi la parola Skyway è inclusa nei nomi di hotel, negozi e persino in compagnia aeree e non abbiamo alcuna responsabilità per il loro lavoro. Ci sono voluti tre anni per padroneggiare un team scientifico di progettazione in grado di creare un prodotto competitivo per le infrastrutture e il trasporto. Bene, io direi che mi fermo qui perché diciamo che le cose migliori le abbiamo dette, le cose fulcro di tutta la conferenza di Juninsky. La cosa importante che vi deve rimanere è tutto quello che si sta creando attraverso i fondi di investimento, attraverso quello che qualcuno e milioni di persone ha deciso di fare per questo progetto. Bene, proseguiamo con le slide. Qui c'è la signora Anna Cinalli che è andata all'Eco Tecnopark in visita proprio il 17 agosto. Complimenti alla signora, mamma di Roberto Taddei di Lanciano che ha fatto la foto accanto al suo albero che è stato piantato a fronte di un investimento importante che lui ha fatto. Complimenti Roberto e alla tua mamma Anna che siete veramente un grande esempio. Qui vedete una foto all'interno del nuovo stabilimento industriale che è stato finito proprio in luglio ed è pronto per la produzione. Bene, molti di noi che sono andati all'Eco Tecnopark hanno portato anche del terreno fertile vivace per i microorganismi del suolo. Circa un trilione di microorganismi di diverse migliaia di specie vivono in un chilogrammo di terreno fertile come il Kernosen. Questo humus sarà utilizzato per fertilizzare terreni comprese le sabbie nel deserto. Qua sempre nell'Eco Festival il museo con un cielo stellato di dozzine di migliaia di nomi di persone che hanno contribuito allo sviluppo. Continua la promozione per i pacchetti di investimento Eco Future con uno sconto da 40 a 45 e chi sostiene, prende questo pacchetto avrà il suo nome e cognome indelebile su una targa di metallo, due targhe di metallo posizionate agli estremi del ponte sospeso lì all'Eco Tecnopark. Quindi rimarrà nella storia, oltre al cielo stellato nel museo, oltre alle 10 mila piante che sono assegnate a chi ha investito in Skyway, c'è la possibilità di avere ancora il nome indelebile su queste targhe. Ribadisco che questi pacchetti di investimento non sono pacchetti finanziari, non c'è garanzia di un rientro, tuttavia diciamo che dopo tutto quello che avete visto è un buon investimento. Non c'è garanzia perché? Perché siamo in una start up, una start up che va sempre più avanti, avete visto che ogni giorno c'è un aumento della capitalizzazione del 3%, tuttavia chi sostiene il progetto deve essere consapevole delle proprie decisioni, non ci sono garanzie, tuttavia io consiglio da parte mia a titolo informativo, non sono qui a proporre perché non è un prodotto finanziario, ma semplicemente vi suggerisco di diversificare le vostre risorse, a prescindere da Skyway, questo è quello che mi sento di dire e dovete versare solo quello che non vi serve domani. Quindi Skyway è nel globo tutto un discorso, pensate 80 uffici di progettazione, a chi chiede a Uniski, ma voi ce l'avete un ufficio di progettazione? No, noi non ce l'abbiamo uno, ce l'abbiamo 80. E qui c'è tutta una serie di reparti, amministrazione del materiale rotabile, sistemi automatizzati, infrastrutture, ecotecnopark, supervisione tecnica e controllo di qualità, organizzazione di prove, servizi del capo ingegnere e così via. Ecco Skyway, stabilimento numero 1, 80 uffici di progettazione, stabilimento 2 la produzione e lo sviluppo, stabilimento 3 o comunque ecotecnopark che è la presentazione della tecnologia e delle certificazioni, stabilimento 4 è lo sviluppo a Sharia del nuovo centro di sviluppo tecnologico vicino all'università americana e poi c'è lo stabilimento nuovo, quindi Skyway si sta diramando su diversi paesi con brevetti internazionali che permettono di salvaguardare il contenuto tecnologico e intellettuale di Skyway. Qui c'è la roadmap di tutto quello che è lo sviluppo fino al 2050, man mano che andremo avanti, già nel 2020 ci sarà un, ci saranno delle, intanto c'è il prima, la prima linea nell'Emirati Albi di 25 km, tracci in Mosca, zona regione di Mosca e Mongolia, sviluppo di flessibilità, studi di flessibilità per fino a 50 km di progettazione. Dal 2000, poi c'è 21, 22, 23, abbiamo l'aumento dei chilometri, 400 km, 850 e così via, fino ad arrivare a migliaia di chilometri. Quindi il primo progetto mirato è il prossimo anno in fase di test. A ottobre, prima dimostrazione del trasporto di stringa Skyway negli Emirati Arabi a Sharia, quindi queste sono le primi dimostrazioni ottuno 2019. Avete la possibilità di andare nella vostra sezione privata e nei partner strumenti di lavoro, partendo dall'alto, al terzo link, la pagina dove ci sono, si può valutare Skyway da tutti i lati, guarda come funziona la tecnologia nell'imbarco, nello sbarco, tutte in vista a 360 gradi, quindi avete modo di vedere tutto. Qua ci sono le soluzioni di partecipazione a Skyway e qua ovviamente non ho aggiornato, non è più tre giorni, ma è stata estesa la promozione dell'investimento, diciamo del pacchetto per avere nome e cognome indelebili nella targa metallica sul ponte sospeso, quindi finché c'è la possibilità si può fare e si ha uno sconto dal 40%, quindi 40.000 quote Skyway a fronte dei 1000 dollari, questo è il certificato che si ottiene. Bene, con questo ho terminato il webinar, ho letto, sarà stato un pochino lungo come discorso, ma ci sono stati grandi elementi di considerazione importanti nella conferenza di Iuninsky, fa riflettere tutto, dobbiamo essere più consapevoli del grande progetto, non è un iPhone, Skyway è molto di più, non è un prodotto, ma è un sistema e quindi è molto complesso, ma articolato e nello stesso tempo è indispensabile per qualunque punto che noi andiamo a indicare nel mondo con il nostro dito, come dice Iuninsky. Vi lascio con un filmato che riguarda l'Eco Festival, un abbraccio forte e a risentirci tra, non lo so, se tra 15 giorni o la prossima settimana, questo ve lo comunicherò verso fine settimana direi o comunque lunedì. Per il momento rimaniamo tra 15 giorni, se non ci sono problemi anticipo alla settimana prossima, per ripetere questa conferenza molto importante. Un saluto a Gianna, Andrea, Natalino e quelli che per la prima volta sentiranno questo webinar, perché il webinar è registrato. Un saluto a tutti, costruiamo Skyway e salviamoci il pianeta. Vi lascio con un video. a tutti, costruiamo il pianeta. Vi lascio con un'immagrazione. Vi lascio con un'immagrazione. È il migrazione del pianeta in mondo. È il migrazione del futuro. Se non puoi vedere, non puoi vedere, non puoi. È il migrazione per tutti. È il migrazione per tutti. Questa è un'immagrazione per tutti. Questa è un'immagrazione per tutti. Ha fatto tutto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.